E' ancora una volta il sindaco di Gualdotadino, Massimiliano Presciutti, l'oggetto di frasi oltraggiose scritte in queste ore sui pilastri in cemento armato di uno dei cavalcavia della Flaminia. In questo caso le scritte sono state apposte in località Cerqueto, lungo la rotatoria, accompagnate da svastiche. Il primo cittadino ha subito dichiarato di presentare a breve sposto contro i gnoti per tale gesto, definito vile e fuori da ogni logica. Personalmente, ha affermato Presciutti in una nota, non ho mai avuto nemici, al massimo avversari con cui confrontarmi anche aspramente, ma sempre nel rispetto delle persone e di una dialettica democratica che è evidentemente sconosciuta a certe persone. Il primo cittadino di Gualdotadino non è nuovo a queste situazioni, già in almeno due casi è stato oggetto di lettere minatorie e frasi oltraggiose che gli sono valse un risarcimento in denaro dal Ministero, risarcimento interamente devoluto al Comune. Si tratta di 6.500 euro in una prima istanza e 14.000 l'anno scorso, messe a bilancio comunale per rafforzare videosorveglianza e acquistare attrezzature per il nuovo impianto di atletica leggera indoor. Non verranno meno passione e coraggio, afferma Presciutti, così come a prevalere non saranno mai la paura ed un clima di odio che continuerò a combattere con tutto me stesso.